salve a tutti benvenuti nel canale di passione uncinetto oggi realizzeremo insieme queste graziose roselline d'irlanda a cui ho applicato appunto una perlina da utilizzare come applicazioni in capi di abbigliamento in borse sciarpe copertine e quant'altro con l'inserimento di una catenella o di un laccetto potete realizzare delle splendide collane da sfuggiare in estate quindi da fare di tutti i colori prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video in più vi volevo invitare a seguirmi sulle mie pagine facebook instagram e tiktok e lì cercherò di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti se il video vi piace lasciate un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo progetto utilizzerò cotone fiocco blu uncinetto numero 3 e una perlina prendiamo il filo e iniziamo la lavorazione facciamo un cerchio entriamo con l'uncinetto ci tiriamo il filo all'interno facciamo una catenella rientriamo nel cerchio e lavoriamo 12 maglie basse lavorate le nostre 12 maglie stringiamo la codina del nostro cerchio magico rientriamo e ci chiudiamo nella prima maglia che abbiamo fatto prendendo tutte e due le costine con maglia bassissima quindi facciamo passare il filo nelle due soline ci rialziamo con 3 catenelle filo sull'uncinetto nel punto successivo quindi nel prossimo punto lavoriamo 3 maglie alte 1 2 e 3 nello stesso punto 3 catenelle entriamo nel punto seguente con maglia bassissima da qui partiamo facendo 3 catenelle filo sull'uncinetto entriamo nel punto seguente e lavoriamo 3 maglie alte 1 nello stesso punto 2 e 3 3 catenelle entriamo nel punto seguente con maglia bassissima ripartiamo sempre con 3 catenelle e facciamo sempre la stessa operazione nel prossimo punto lavoriamo 3 maglie alte 3 catenelle e ci chiudiamo nel punto successivo con maglia bassissima quindi dobbiamo creare 6 petali quindi continuiamo la lavorazione e ci rivediamo qui alla fine arrivati alla fine entriamo nel punto precedente le prime 3 catenelle facciamo l'ultimo petalo quindi le 3 maglie alte 2 e 3 le 3 catenelle e ci chiudiamo nel primo punto che abbiamo realizzato con maglia bassissima e abbiamo finito il primo giro abbiamo ottenuto 123456 petali non vi preoccupate se nel frattempo della lavorazione qui il cerchio si allarga perché potete stringerlo in un secondo momento quindi ora continueremo la lavorazione nella parte sotto rientriamo nel punto e ora guardate giriamo qui nella parte sotto la lavorazione come vedete ci sono questi punti i punti bassi iniziali noi in questo caso entreremo nel primo che abbiamo a disposizione che è questo qua prendendo il punto quindi entriamo guardate prendiamo il punto così prendiamo il filo e lo facciamo passare e ci agganciamo così nella parte sotto quindi ora possiamo lavorare 3 catenelle 1 2 e 3 andiamo sempre qui nella parte sotto questo è il punto agganciato questo qui saltiamo un punto andiamo nell'altro guardate andiamo nell'altro guardate e ci agganciamo in questo modo facendo una maglia bassa 3 catenelle andiamo qui nella parte sotto saltiamo questo punto andiamo in questo entriamo così la parte prendendolo e facciamo una maglia bassa finora abbiamo fatto la prima il primo archetto e il secondo ora continuiamo perché archetti ne dobbiamo fare in tutto 6 facciamo le 3 catenelle andiamo sempre qui nella parte sotto un attimino che ecco perfetto questo è il punto agganciato saltiamo questo punto e ci agganciamo in questo così prendiamo il filo e lo facciamo passare facendo poi una maglia bassa di nuovo 3 catenelle di nuovo 3 catenelle perché abbiamo fatto il terzo archetto qui ora faremo il quarto prendiamo saltiamo questo punto e ci agganciamo qui facciamo il quinto archetto 3 catenelle in tutto archetti ne dobbiamo fare 6 qui saltiamo un punto ci agganciamo all'altro maglia bassa contiamo gli archetti che abbiamo fatto ma siamo arrivati qui guardate qui alla fine con una maglia che ci divide quindi 1 2 3 4 5 e ora faremo l'ultimo quindi facciamo le 3 catenelle 1 2 3 entriamo ci agganciamo al primo punto quindi cerchiamo di entrare qui dove abbiamo fatto il primo punto e ci agganciamo con maglia bassissima ora facciamo passare la solina in tutte e due e abbiamo terminato il giro degli archetti e ne abbiamo fatti in tutto 6 ora entriamo direttamente nel primo archetto che abbiamo a disposizione con maglia bassissima e qui cominciamo a lavorare i petali dietro facciamo 4 catenelle 2 volte il filo sull'uncinetto rientriamo nell'archetto facciamo una maglia alta doppia o maglia altissima ora facciamo tre volte il filo sull'uncinetto rientriamo sempre nello stesso archetto e lavoriamo una maglia alta tripla quindi facciamo passare a due due il filo a due soline a due soline fino alla fine di nuovo tre volte il filo sull'uncinetto entriamo prendiamo il filo facciamo passare nelle prime due nelle altre due nelle altre due nelle altre due e nelle ultime e questo lo dobbiamo fare per cinque volte quindi dobbiamo fare cinque maglie alte triple quindi ne abbiamo fatte quattro ne manca una sempre nello stesso archetto questa è la quinta una maglia alta doppia sempre nello stesso archetto e quattro catenelle 1 2 3 e 4 ci chiudiamo sempre nell'archetto con maglia bassissima quindi ripetiamo quello che abbiamo detto fatto 4 catenelle maglia alta doppia 5 maglie alte triple maglia alta doppia 4 catenelle in un archetto entriamo guardate con maglia bassissima nell'archetto seguente così e qui dobbiamo ripetere quello che abbiamo appena fatto 4 catenelle maglia alta doppia 5 maglie alte triple maglia alta doppia e 4 catenelle e questo lo dobbiamo fare per tutti gli archetti spostandoci da un archetto all'altro con maglia bassissima e cominciando con le catenelle quindi ci possiamo lavorare i petali e ci vediamo quando arriviamo all'ultimo pedalo arrivati qui alla fine chiudiamo con maglia bassissima sempre nell'archetto prendiamo la solina la facciamo passare in tutta la rosellina guardate così e stringiamo così ora tagliamo il filo e possiamo sistemarla e la sistemeremo insieme guardate sistemiamo i petali che giustamente la lavorazione così e così guardate carina semplice e veloce da fare abbiamo terminato la nostra rosellina ora stringiamo un altro pochino il cerchio però rimarrà sempre leggermente più aperto qui nella parte centrale e qui la decisione di prendere magari una perlina e applicarla qui al centro o un brillantino comunque potete anche utilizzarle senza niente nascondiamo i fili e applichiamo la nostra perlina ho applicato la perlina con un goccino di colla per tessuti potete utilizzare anche un goccino di colla a caldo ed ecco le roselline di irlanda pronte guardate che sono belline di grande effetto e soprattutto utilizzate anche a tre fanno una bella applicazione per qualche progetto che può essere anche una borsa noi qualcosina faremo non vi voglio anticipare più di tanto però più in là vi presenterò un progetto estivo con queste roselline spero che il video vi sia piaciuto se così lasciate un mi piace al video e condividetelo se avete delle domande da fare commentate qui sotto o sulla mia pagina facebook o instagram passione uncinetto e io sarò lieta di rispondervi vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video